Ti presento la signora Clara, vieni qua, vieni, vieni qua, guarda qua dentro, qua, saluta, ciao Gaetano, tutto bene? Sì, tutto bene, che si dice? Tu come stai? Ti fa male il pancino? Ho cacato, è per la faccia tua, che si dice? Quello che dici tu sto facendo, sto sentendo il telegiornale, guarda nella televisione, ah qui dentro devo guardare? Sì, come sono bella? Sì, dici qualcosa, oh come sono bella, questa volta quando viene agosto mi devo fare la missa, la miss, la graziella, la graziella, ok, salutiamo insieme adesso, no no no, ciao, saluta, adesso devi vedere la puntata, saluta, ciao!